Ognuno ha le sue prigioni, ognuno ci convive. Ma quando le pareti cominciano a restringersi, le facce diventano anonime. Quando lo specchio comincia a darti del tu, quando i marciapiedi ti provocano vertigini e la strada sembra il tuo tappeto rosso, metti insieme il tuo bagaglio, riempilo di ricordi, speranze, parole, storie vissute, storie da vivere. Riempilo di emozioni, musiche, liti, illusioni d'epoca, domande, risposte. Trovati un amico e comincia la condivisione. Vai a caso, lascia le tue lacrime sul cuscino, incontrati con la vita, scontrati con il dolore, ruba l'amore, non avere una meta ma cento. Prova a ritornare, perché il ritorno dà senso al viaggio. Pensa a Polifemo e alla sua solitudine e rispetta la solitudine altrui. Guardati, gira intorno al mondo, non girare con lui. Affrancati da te stesso e dall'attesa. Per amare la vita bisogna tradire le aspettative. Guardati intorno e guardati da chi si professa libero. Il sapore della libertà è la paura. Solo chi ha paura della libertà ha il coraggio di inseguirla. Il sapore della libertà è il coraggio di inseguirla.